La notte scorsa quattro ladri sono entrati in un museo d'arte privato a Singapore. Ognuno di loro ha innumerevoli precedenti per ogni tipo di reato. Penso che questa verrà via con me. Lupin! La pistola batte sempre la spada. Ripeti quello che hai detto. La lama recide ciò che non ha alcun valore. Mi prendi per i fondelli! Perdonami, Lupin, ma questo ispettore cattivone ha minacciato di arrestarmi se non ti avessi attirato qui. Un gioiello è come una donna. Se la conquista è facile, non mi interessa. No, no, no! La donna, ma chiare!